salve a tutti io sono salvatore e oggi farò una musica improvvisata sul pianoforte diciamo una musica che non so ne vedo io dove viene la faccio così istintivamente e vediamo cosa viene fuori quello che mi ispira la mente in questo momento vediamo cosa ne esce fuori ok iniziamo mettiamo in posizione e iniziamo ok grazie a tutti 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 ciao ciao